Ciao e bentornati nella tana dei Mad Men. Io sono John e questo è il Crypto Espresso, il nostro solito appuntamento del lunedì durante il quale cerchiamo di prendere un po' il polso del mercato cripto per capire cosa sia successo nei giorni precedenti, cosa stia succedendo e insomma cominciare insieme alla settimana, si spera, col piede giusto. Prima di cominciare vi ricordo che in descrizione trovate come al solito tutti i link, quindi sia i link di quello che vi mostro durante il video sia il link di accesso alla community dei Mad Men, se volete curiosare, capire un po' cosa succede, c'è il profilo free col quale potete entrare senza spendere nulla e cominciare a guardare un po' in giro, a prendere misure eccetera il link per l'accesso, scusatemi, per l'acquisto, l'accesso all'acquisto al corso di cripto trading che abbiamo costruito insieme a Mick e che è stato pensato per chi si avvicina al mondo del trading da zero o quasi e infine i soliti link di referral, bonus, insomma tutta una serie di cose che se vi interessano trovate, potete curiosare. Detto questo entriamo subito nel vivo e cominciamo con la parte notizie parlando di quello che è il caso di questi giorni cioè di questi giorni in realtà, il caso scoppiato ieri, del quale si sta parlando molto oggi e del quale probabilmente si parlerà nei prossimi giorni. Ve la faccio molto 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 semplice ieri su Twitter CZ, se volete chiamarlo l'italiana, cioè il CEO e Big Boss di Binance ha detto che avrebbe liquidato tutti gli FTT in possesso della società, quindi in possesso di Binance FTT che per chi non lo sapesse è il token proprietario di FTX, quindi è il token proprietario di uno dei principali competitor di Binance ma anche di uno dei più grossi exchange al momento presenti sul mercato. FTX ne abbiamo già parlato in diverse occasioni ma è un exchange che al di là poi dei suoi numeri e della sua crescita ha fatto parlare moltissimo di sé sia per le politiche molto aggressive e per la capacità anche di porsi con grossa forza sul mercato ma anche perché in Pinoberg Market e in particolare quando c'è stato tutto il casino di Luna e poi di Chelsea se via dicendo, ha dimostrato di essere almeno apparentemente molto più resiliente, molto più solido rispetto ad altre realtà. Ha cominciato dal fatto che non ha tagliato i dipendenti e anzi in realtà è andato di investire ulteriormente e a muoversi anche come, cioè ha dato la propria disponibilità e il proprio interesse come supporto in tutto il famoso casino a cascata che c'è stato dopo terra per mettere fondi, per entrare a gamba tesa, insomma si è posto come un giocatore di Serie A. Ora il problema qual è? Che appunto ieri si sedda che faceva parte di FTX e che è uscito dalla società portandosi a casa circa 2 miliardi di dollari tra BUSD e FTT appunto, ha detto che ha intenzionato, ha deciso di sbarazzarsi della sua parte di FTT, quindi di venderli, di rimetterli sul mercato, di buttarli fuori dal proprio wallet e che lo sta facendo, perché questo è il punto importante, per una strategia di post exit risk management. Post exit si rifà appunto a quello che è appena detto, che lui faceva parte di FTX e ne è uscito e quindi questi sono i soldi che sono derivati dall'exit, ma soprattutto puntualizzando che è appunto una strategia risk management messa in atto alla luce di quanto è successo con l'UNA. Poi fa tutto un discorso, dice ne abbiamo dato supporto, bla 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 bla, ma non vogliamo supportare persone che vanno a fare lobby, che vanno sostanzialmente a giocare in modo sporco, questo è quello che emerge dalle righe e quindi ce ne tiriamo fuori. Tutto questo discorso ovviamente ha scatenato un casino infinito su Twitter e in generale del mondo cripto, perché il fatto che un personaggio di questo calibro, di questa dimensione vada a fare una dichiarazione così pesante su Twitter e lo vada a fare a seguito di un leak, a seguito di una uscita di informazioni sul bilancio, adesso ci arriviamo, di una società che è comunque legata a FTX, ha ovviamente scatenato il panico perché ha aperto le porte, almeno a livello di ipotesi, ad un possibile LUNA 2.0, quindi ad un possibile ritorno di un crawl ecosistemico o comunque di una situazione di crisi come quella che è stata innescata da LUNA e che poi si è esposta, si è diffusa anche ad altre realtà come appunto la già citata Celsus, Trior Eros Capital e via dicendo. Il leak appunto, diciamo il dato al quale riferimento CZ è un bilancio che riguarderebbe una società, un'altra società, Alameda Research, lo vedete qua, che fa sempre capo a Sam Bankman Freed, Bankman, scusatemi, Freed, l'ho sempre pronunciato sbagliato, per semplificare, se no ci mettiamo 10 minuti solo per il suo nome, SBF, come viene chiamato normalmente, che è appunto il SIE fondatore di FTX, ma anche il fondatore appunto della Alameda Research. Alameda Research è una società di trading che in questo momento ha un alto SIE, ma che comunque fa riferimento a SBF e che stando a questo bilancio sarebbe a rischio di insolvenza, quindi si troverà in una situazione in cui se dovesse esserci la richiesta da parte dei creditori della restituzione dei prestiti rischierebbe, potrebbe trovarsi a condizione di essere insolvente e quindi di andare in fallimento e innescare di nuovo il solito casino da cascata, di sell-off massiccio, di cloro del prezzo e via dicendo. Questo insieme al fatto che ci sono dei rapporti non del tutto chiari con FTX, quindi c'è una situazione non del tutto cristallina, ci sono delle preoccupazioni in generale su come è costruito il modello di business che ci sta dietro, ha fatto sì che appunto cominciasse a sorgere tutta una serie di sospetti, tutta una serie di perplessità appunto sulla salute economica e finanziaria appunto di Alameda Research e di conseguenza di nuovo sul potenziale rischio di un luna 2.0. Ora non voglio andare troppo lungo, quindi tutti i dettagli poi del perché e del per come li trovate all'interno, ma fatto sta che quello che ha detto, quello che è il risultato al quale stiamo assistendo in questo momento è appunto Siselda che ha detto ragazzi io non mi fido di quello che sta succedendo, mi sembra una situazione poco trasparente, questo ripeto interpretando tra righe quello che lui ha detto e quindi andrò a liquidare i miei FTT. Lo farò in modo morbido, quindi non tutto in un botto, in modo tale da non far collassare i mercati, ma non intendo a restare esposto in quella direzione. Il problema ovviamente qual è? Che nel momento in cui esce informazioni di questo tipo e l'utente medio, noi sostanzialmente andiamo a ricepirla, chiaramente andiamo a rizzare le antenne perché che sia vero quello che dice CZ, che sia vero quello che dice chi invece ha risposto alla Meda Research dicendosi pronta ad acquistare al prezzo proposto appunto da CZ gli FTT e dicendo che quel bilancio in realtà è solo parziale perché ha solo delle informazioni, mancano degli altri edge su quali sono esposti e dicendo che quindi la liquidità c'è, al di là di quale delle due campagne vogliamo ascoltare, resta il fatto che chi poi va in mezzo, diciamo, è il vaso d'argilla tra i due sassi d'acciaio, famosi sassi d'acciaio, alla fine siamo noi. Quindi ve lo dico perché, da un lato perché è bene che siete informati su questa cosa, dall'altro perché al solito, al di là di tutte le notizie, al di là di tutto quello che possiamo valutare, al di là dei dati che ci arrivano, perché vi ripeto, di FTX si è parlato e si parla tantissimo, come di un si è parlato tantissimo, come di un exchange solido, uno dei più sicuri, eccetera, l'unica vera, una delle poche vere armi che abbiamo è quella per tutelarci, è quella del risk management. Quindi, ok analisi tecnica, ok analisi fondamentale, ok tutto, ma l'ultimo baluardo per difenderci da questo tipo di situazioni dove, alla fine, le informazioni che abbiamo sono parziali e possiamo fare dei calcoli, delle valutazioni, ma hanno ovviamente un certo margine di errore, è lavorare tantissimo di risk management. Che questo significhi mettere, suddividere i propri soldi all'interno di diversi exchange, che questo significhi avere un hardware wallet, cosa che io sempre ritengo essere la base per non farsi male, che questo significhi, se le cose vengono fatte in un certo modo, che questo significhi magari avere anche un solo exchange, ma a quel punto tenerlo monitorato per essere pronti a reagire quando escono situazioni di questo tipo, fatto sta che lì è dove, in buona parte, non sempre, ma in ampissima percentuale, ci si può salvare da eventi imprevisti. Chi ha seguito con attenzione l'una, chi ha seguito tutto il discorso del crollo dell'ecosistema e chi si è mosso per tempo, è riuscito probabilmente a farsi meno male di chi invece si è svegliato un giorno per l'altro, leggendo le notizie, andando a vedere quello che ha già successo, a cose successe, e si è trovato con un pugno di mosca in mano. Quindi sempre attenzione ragazzi, sempre tantissima attenzione, perché è facilissimo farsi male in questo mondo. Vi linkerò poi anche questo articolo, dove è un po' più vicino rispetto a quello che abbiamo mostrato prima, che comunque si riferisce ad una notizia di ieri e a quello che ne è conseguito, ma sappiamo che nel mondo cripto è tutto velocissimo, che è relativo invece ad alcune difficoltà che sembrano stare emergendo, e da qui ulteriori sospetti, a livello di possibilità di prelievo da FTX, nel senso che si stanno registrando dei rallentamenti, delle difficoltà, e quindi qualcuno sta dicendo, siamo sicuri che non sia come è successo in altri casi l'inizio della fine. Questo non ve lo dico assolutamente per scatenare il panico, attenzione, tutt'altro, dico solo, fate attenzione, io sto tenendo monitorato, tenetelo anche voi se siete esposti su FTX, o se vi interessa, o scusatemi, se siete attivi su FTX, o se siete esposti in FTT, e se vi interessa la cosa, perché comunque è una situazione abbastanza delicata, che potrebbe risolversi in modo molto pulito, ma che ha alcune delle premesse necessarie per innescare processi più fastidiosi. Ultima notizia, poi su questo se volete torniamo nei commenti, in community, insomma al solito ben contento di discuterne e di approfondire insieme. Notizia invece, lampo, prima di passare all'altra parte, perché insomma vado veramente eterno, la questione di Ripple, della quale stiamo a parlare ultimamente della causa con la SEC, sembra star, cioè sta avanzando in realtà, per adesso niente di nuovo, solo il fatto che la SEC si è portata a casa un piccolo risultato, ottenendo del tempo in più per presentare le proprie reply briefs, che credo che in italiano si possa intedurre con memorie, può essere dal punto di vista giuridico, vabbè, reply briefs, sostanzialmente per presentare le proprie risposte all'interno del caso. La cosa avviene dopo che in realtà Ripple ha ricevuto, non è un endorsement in realtà, ma ha ricevuto quello che viene definito un amicus, un amicus brief da parte di diverse realtà, quindi da parte di Coinbase, da parte di altri soggetti che hanno sostanzialmente dato il proprio supporto, qua poi trovate qualche dettaglio in più, non è niente nel marito legale, anche perché non è il mio, non lo conosco, ma non ci interessa nemmeno, nemmeno granché approfondirlo, ma dicevo, ha ricevuto molto supporto da altre grosse realtà e di conseguenza appunto la SEC probabilmente ha avuto margine più facce per chiedere più tempo e più spazio, vedete qua si parla di tempo e di pagine, per appunto depositare le proprie memorie alla Corte. Questa cosa ovviamente è interessante non per il dettaglio in sé, ma semplicemente un aggiornamento su una causa che dal punto di vista diciamo ideologico e politico potrebbe avere una rossissima importanza, ma di questo, ripeto, abbiamo già parlato in altre live, quindi vi rimando alle live precedenti o ai successivi commenti che faremo, visto che prima di inizio 2023 sembra che sia difficile arrivare ad un qualcosa di, ad una conclusione. Fiori un redinders e poi coppia che scoppia, quindi non ho nulla da dirvi, siamo più o meno sullo stesso livello dei giorni scorsi, c'è stato un picco ieri ovviamente per il discorso di FTT, perché comunque FTT è andato a ritracciare e poi è tornato su, ma la situazione è quella che è e ci sta, che abbia scatenato un po' di panico nei mercati, ma siamo abbastanza rapidamente tornati al valore al quale eravamo la settimana scorsa. Su Total Market Cup e su Dominance idem, Market Cup siamo sempre là che stiamo cincischiando intorno, scusatemi ogni volta, intorno al Trillions e Dominance c'è stato un recupero di BTC, vedete qua il 6 novembre, qua avevamo avuto il 2, ne avevamo, se non ricordo, mal già parlato, il discorso della Fed e del Federal Open Market Committee, poi siamo andati a ritracciare, ci siamo riappoggiati qui e adesso abbiamo recuperato un po' di valore. Però diciamo che non c'è nulla per il momento di troppo rilevante, se andate a vedervi le altcoin vedete che stanno soffrendo un po' di più, ci sono un po' più losers oggi, proprio perché negli ultimi due giorni, proprio perché appunto Bitcoin ha recuperato un po' di forza a livello di Dominance e come al solito quando succede la parità di Market Cup, le altcoin sono quelle che soffrono un po', però di nuovo ragazzi nulla di rilevante. Ida incompattata per quanto riguarda invece Bitcoin, qui tra l'altro abbiamo fatto sabato la solita live settimanale ritardata di un paio di giorni per carmi una navigazione con Mic, Mic ha affrontato con i Mad Men della community un po' l'analisi di BTC, quindi io al solito vi riporto una cosa molto 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 veloce all'acqua di rose, perché poi l'approfondiamo nella live settimanale del giovedì sera, ma insomma anche qua c'è una situazione interessante perché BTC sta continuando a lateralizzare, a muoversi sempre nello stesso macro range che vedete bene sul settimanale e andando a restringere un po' il campo invece in questo range più ristretto intorno ai 20k. Qui vedete che abbiamo in realtà ben tre medie, tre EMA che ci fanno a supporto, la 12, la 26 e la 50, quindi siamo in una situazione in cui abbiamo tre supporti sotto questa trendline eppure il supporto a 20. Qui c'è una situazione che potrebbe essere interessante per andare a confermare questo supporto e cercare di costruire in questa direzione. Al momento non dovrebbe esserci, con mille sottolineature, perché al solito nessuno ha la sfera di cristallo, quindi dobbiamo fare delle ipotesi sulla base di quello che leggiamo a livello di dati, ma non dovrebbe esserci e ci sia volatilità, anche se è probabile, anzi quasi sicuro che si andrà a ritoccare questo supporto per testarlo, anche le bollinger ci danno una riduzione della volatilità, vedete che tendono ad allargarsi e l'RSI stocastic e l'RSI normale sono tutte e due in fascia abbastanza alta, ma non al di fuori della fascia media. Quindi diciamo, per quanto riguarda lo stocastic, quindi diciamo che ci saranno molto probabilmente i movimenti, ma non sembrano esserci le premesse per qualcosa di troppo violento e improvviso. Resta il fatto che nel caso in cui il caso FTX dovesse gonfiarsi, potremmo assistere ad un aumento anche pesante della volatilità e ad una risposta sui mercati, incluso Bitcoin, ovviamente molto più forte, perché a quel punto, ipotizzo, è abbastanza facile da ipotizzare come scenario, si scatenerebbe, se non del panico, comunque della confusione, comunque anche della manipolazione, della speculazione apposita, in generale della confusione e quindi ci starebbe una maggior volatilità dei mercati. Al momento, però, per quello che possiamo vedere, non sembrano esserci motivi per andare in questa direzione a livello tecnico. Vi ricordo anche, scusatemi ragazzi, che noi ogni mese, l'ultimo giovedì del mese, facciamo una live aperta anche con Mic a tutti, quindi quello che facciamo di solito solo per gli abbonati, lo facciamo a tutti. Se volete assist alla parte di Market Update, infatti, in modo più specifico e in modo più dettagliato, la cosa molto veloce che vi stavo facendo io, segnatevi l'ultimo giovedì del mese, perché lì potete accedere e appunto avere un'idea di quale sia il percorso completo che poi facciamo. Ultima cosa, per quanto riguarda l'Ematic On-Chain, sapete che ne mostro solo una, perché anche queste sotto la vediamo il giovedì in modo più dettagliato, questa ha a che vedere con la volatilità di Bitcoin ed è figo vedere come Bitcoin al momento, vedete qui, stia andando ad avere meno volatilità sia del Nasdaq sia dello Standard & Poor's 500, dell'S&P 500. Quindi per la, non so se prima volta nella storia, penso di sì, ma abbiamo Bitcoin che è meno volatile rispetto agli altri due. È una cosa strana, vedete che di solito Bitcoin è terribilmente più volatile, insomma le crypto sappiamo che hanno quella, quella è una del loro principale caratteristica, ma è un tema del quale stiamo parlando ultimamente a proposito dei movimenti relativamente morbidi, relativamente calmi che Bitcoin sta facendo. Quindi ecco, ci tenevo a portarvi questa metrica che lo spalma nel tempo e lo mette a riferimento a due elementi legati a quello che è il mondo finanziario tradizionale che invece tendenzialmente per quanto volatili dovrebbe essere più stabili delle crypto, di Bitcoin e in generale delle crypto. Quindi ecco, interessante, cioè non ci dice nulla di particolarmente rivelatorio eh, però è interessante metterlo a fuoco. Io con questo ragazzi ho finito, quindi torno a tutto schermo. Vi ricordo che nulla delle cose diciamo in questi video, in tutti i video che facciamo all'interno del community in generale sono consigli finanziari, ma sono input che vi diamo elementi da mettere poi all'interno del vostro studio, della vostra due diligence e che quindi è sempre importante che ragioniate con la vostra testa e facciate tutto con la vostra testa, perché chi alla fine preme i bottoni, decide compro, vendo, muovi soldi eccetera, siete voi. E di nuovo, mi rattacco il discorso all'inizio, a maggior ragione per questo, siate sempre molto cauti e tentate di, per prima cosa, per qualsiasi altra operazione, fare un po' di risk management in modo tale da tutelare voi, tutelare il vostro capitale, non farvi male, perché quella è la cosa più importante nel crypto, anche in tutte le altre cose, ma in particolare quando si maneggiano i soldi e le crypto, ok? Vi auguro una buona continuazione settimana, noi ci vediamo nei prossimi giorni con il nostro solito programma sul canale e per chi è in community o per chi vuole entrare in community, ci vediamo in community. Ciao e buona due diligence! Ciao!